Sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulle atroci sofferenze subite dagli animali negli allevamenti intensivi anche nel Salernitano. Aprire gli occhi sulle conseguenze per l'ambiente, l'inquinamento e la deforestazione. Arriva in città il movimento internazionale dei Save Movement che vanta più di 600 gruppi in tutto il mondo. Abbiamo fatto delle indagini sui mattatoi, abbiamo visto che come mattatoio più attivo è quello di Atena Lucana. Infatti abbiamo già svolto tre veglie, l'ultima ieri e poi ci saranno video che verranno pubblicati sulle nostre pagine. Sono video molto forti, sentiamo gli animali che urlano prima di essere uccisi. Quello che noi vogliamo fare è documentare, far vedere gli occhi degli animali prima di andare nei macelli in modo tale che la gente possa capire che dietro a quella fettina di carne c'è un essere vivente che voleva vivere, voleva essere lasciato libero. Divulgheranno ancora di più, insieme alle altre associazioni animaliste che sono sul territorio, il rispetto per gli animali, anche se vogliamo dire che per chi non è proprio vegano, vegetaliano, anche un'etica della morte perché uccidere un animale in atroce sofferenze non è umano, è disumano e noi dovremmo essere attenti sempre a qualsiasi essere vivente. Dovrebbe essere la regola che ci accompagna nella nostra quotidianità.